questo è un esempio di un b raft va bene quindi se ottieni un b raft lo metti in acqua ecco tutto hai finito mettilo nell'acqua e dopo non so ci vogliono da 5 a 10 giorni e poi inizierà ad attirare le api è un processo naturale che richiede tempo e pazienza ma alla fine le api saranno attratte se ci sono api nella zona inizierà ad attirarle e poi inizieranno a usarla e una volta che capiscono cosa fa lo useranno ogni giorno grazie